Lei mi diceva prima, quest'oggi farà un tour nell'Agroa Versano, in una zona che comunque è diversa dalla sua zona d'origine, perché è stata candidata in un collegio diverso. Questa cosa per lei le ha creato dispiacere? È più una sfida? Come si sta rapportando con un territorio che è di poco più distante rispetto al suo? Esatto, purtroppo di poco distante nel senso che i problemi voglio dire che accomunano tutta l'area del nord di Napoli con quello dell'Agroa Versano, voglio dire, non sono così diversi, devo dire, allargo il cerchio all'interno della regione Campania, perché i problemi più o meno sono gli stessi, tra la questione legata di quella in primis che metto sempre, perché più sto facendo questi giri in queste settimane, più mi rendo conto che la gente, mentre prima quando parlavi ti chiedeva del lavoro, del problema della sanità, oggi l'unico tema che si deve affrontare è che affrontano la sicurezza, non stanno più tranquilli. Accanto a questo poi c'è il problema legato all'ambiente, quindi dal famoso problema dell'inquinamento ambientale, borifiche, terrati fuochi e quant'altro.